Buon sabato a tutti da Delebio, sono la piazzetta a Tiglio Vaninetti, ma chi era? Era un imprenditore cittadino, ma guardate laggiù cosa vedo il treno, il treno che se ne va, ma io oggi vado oltre la Valtellina, ma guardate che bello, questo viale alberato con piccoli alberi che costeggiano la strada per andare alla stazione di Delebio, guardate tutte le tonalità dell'autunno, sono favolosi, poi questa leggera aria che dà movimento all'organismo vitale, ma guardate che incanto qui, guardate bene e sono qua al viale che conduce, come ho detto prima, alla stazione a due binari, ma per di più vi dico che oggi vado in un altro paesino, in un altro paesino sempre della Valtellina, se riuscirò a raggiungere Porcido, mi chiedo se riuscirò, se riuscirò, ma l'importante è avere uno scopo per partire, per non fare l'impoltronato come certi miei amici, guardate l'incanto di questi alberi che ci sono, sembrano delle persone qui, alberi a forma di persone umane che aspettano la fermata del treno, sono qua in attesa, come per dire treno, portami lontano, portami in un altro luogo della Valtellina, dove io posso vedere il sole, lo spettacolo dall'alto, ecco un altro, questo direi, lo chiamerei un albero con un'anima, sì, ma non ho mai visto, un bel viale così adelebio, con alberi molto piccoli, illuminati della stagione, si può dire, autunnale, di diversi colori, ecco che mi incammino, Aldo. Saluti, saluti da tutti, da tutti, ma da tutti, anche gli amici che non vorrebbero ascoltarmi, ma io li capisco, potrei essere anche monotono, ma non importa, la Valtellina è un mondo da scoprire, è sempre un qualcosa che appare negli occhi questa montagna che ho di fronte, denominata la costiera di Cech, guardate i paesini dove sono stato ieri, là in alto, Cino e Cercino, ma oggi sono contento, forse di ritornare anche a Torchi Bianchi, dove c'è un sentiero che va ai due paesini, Porcido e Porcellino, ma lo sapete perché si chiamano così? Nessuno si è fatto una domanda appropriata il motivo del nome, perché quel santo, che allora c'era, aveva con sé un animale piccolo, un Porcellino, e così fu denominata quella località, molto esplicita nel significato. Sono qua, alla stazione di Delebio, dove mi accosto a questi due binari e mi chiedo, quale sarà il binario per andare oltre Delebio, proseguire oltre Morbegno. Adesso guardo, adesso guarda e intanto aspetto il treno, intanto aspetto il treno e vedo le montagne innevate. Sì, sì, mo' che bello, qui ogni giorno scoprire una stazione nuova, un paesino, un borgo, abbandonato o non abbandonato, ma l'importante è che ci sia una vita vissuta in Valtellina, dove il passato rivive nel presente di un uomo che ha lavorato la terra della Valtellina, che ora si appropria e dà la facoltà agli altri esseri di dominare questa bella costiera di Cech.